Da 20 giorni al piano terra dell'oncologico di Bari c'è una colonnina che segnala la qualità dell'aria. Si chiama Clean Air in Hospital ed è un progetto pilota che prevede appunto il monitoraggio della qualità dell'aria negli ospedali. La colonnina sarà itinerante per i prossimi tre mesi con l'obiettivo di conoscere lo stato dell'aria nei nosocomi del capoluogo. In realtà negli ospedali ci sono problematiche anche collegate con le sostanze che vengono utilizzate e maneggiate. Oltre che qualche volta una sovrappopolazione che determina di per sé un problema di inquinamento indoor. Perché quanto più i posti sono popolati tanto più c'è la possibilità che la qualità dell'aria sia scadente. Il progetto finanziato dall'università rappresenta il punto di arrivo di 10 anni di lavoro nello sviluppo di sistemi di monitoraggio della qualità dell'aria negli ambienti interni. La qualità dell'aria interna è importante in tutti gli ambienti ma negli ospedali in maniera particolare perché ci sono una serie di sorgenti inquinanti che derivano proprio delle attività ospedaliere, cliniche e mediche.